Nell'angolo della poesia di oggi la professoressa Irene Catarella recita la sua poesia insieme tratta dal suo libro canto anima edito da Mondadori per ricordare che l'unione fa la forza non siamo nati per stare soli l'unione fa la forza lo stare insieme ci rende forti le cose fatte insieme valgono tantissimo hanno più forza e più potenza e proprio il nostro hashtag angolo della poesia oggi vuole rendere merito a questo mettere in evidenza il valore dello stare insieme e lo vogliamo fare con una mia poesia intitolata hashtag insieme tratta dal mio libro hashtag canto anima sorgenti di bellezza tra la spuma di mari di aurore boreali apriamo arcobaleni al tocco sguardo delle genti ma soli siamo a porto del peccato stiamo insieme questo è il nostro valore e il valore dell'umanità aiutiamoci reciprocamente